Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6, in apertura ci occupiamo dell'inizio della stagione balneare e così la Capitaneria di Porto ha diramato le regole da tenere in spiaggia per una estate in totale sicurezza, ce ne parla nel servizio Stefano Recanati. Nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 30 settembre la zona di mare fino a 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione e questa è una delle regole principali emanate dalla Guardia Costiera di Pescara in vista di una stagione estiva in sicurezza. Per questo in quella zona saranno vietati il transito di qualsiasi unità navale, comprese windsurf e catsurf. Il limite a quei sicure è la zona di mare in cui l'acqua non supera un metro di profondità e dentro la quale i soggetti non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione in condizioni di maggiore sicurezza. Inoltre saranno vietati tuffi dai pontili, dalle piattaforme galleggianti usate come prendisole o dagli scogli. Per lo stesso periodo di tempo sarà vietato occupare con qualunque attrezzatura, lettini, sdraio, ombrelloni, pedalo la fascia di 5 metri dalla battigia al fine di assicurare il libero transito e il tempestivo intervento in caso di soccorso. Il provvedimento regolamenta la balneazione e lo svolgimento delle attività socio-ricreative lungo la fascia costiera dell'Abruzzo e del Molise. Per far sì che questo avvenga nella maniera più sicura possibile saranno impiegati ogni giorno 15 militari sia in mare che sulla terra ferma. Guardi, come sta andando lo possiamo dire tra qualche settimana perché proprio ieri si è aperta la stagione balneare con le predisposizioni dei servizi di sicurezza, quindi dei servizi di salvataggio e dei bagnini e noi siamo sempre pronti con i nostri mezzi e con le pattuglie a terra. Pattugieremo tutto il litorale insieme alle altre forze di polizia coordinate dalle locali prefetture perché ricordo la direzione marittima di Pescara abbraccio all'Abruzzo, il Molise e le isole Tremidi. Quindi abbiamo a che fare con varie prefetture e con vari dispositivi di sicurezza che attueremo al meglio per tutelare la cittadinanza che sembra dalle prenotazioni che gli operatori commerciali ci hanno riferito siano molto cospicue quest'anno. Si può fare anche una raccomandazione allora perché sia una stagione in sicurezza e soprattutto tranquilla? Sì, le disposizioni di sicurezza sono contenute nell'ordinanza balneare pubblicata pochi giorni fa da noi, da Pescara, presente sul sito nostro della Guardia Costiera dove sono precisate tutte quelle elementari raccomandazioni da fare alle persone che fruiscono del mare quali mangiare poco prima di fare il bagno oppure aspettare i dovuti tempi della digestione quando si esce in barca e uscire sempre col giobbotto di salvataggio e sempre in compagnia insomma raccomandazioni elementari che tutelano appunto l'icolumità dei bagnanti. E come sappiamo c'è l'ufficialità dalla prossima settimana, l'Abruzzo sarà regione bianca dunque meno restrizioni dal 7 giugno ma a Pescara la Movida può decollare sì comunque con responsabilità. Ne abbiamo parlato con l'assessore al commercio Cremonese. Oramai ci siamo poche ore e l'Abruzzo diventerà zona bianca lunedì 7 giugno, non ci sarà più il coprifuoco, inizierà a questo punto assessore il caso di dire proprio la stagione estiva vera e propria a Pescara. Assolutamente sì, siamo felicissimi di un grande risultato che abbiamo ottenuto con grandissimi sacrifici. Voglio innanzitutto dire e ringraziare la Regione e i comuni che hanno lavorato per questo se da lunedì saremo zona bianca lo dobbiamo ai grandi sacrifici che abbiamo fatto, all'importante campagna di vaccinazione che ha visto l'Abruzzo protagonista, ricevere anche i complimenti dal generale Figliuolo, dai grandi sacrifici che hanno fatto le attività produttive e tutti quanti insieme proprio per essere attenti al distanziamento, ai dispositivi di protezione individuale. Quindi innanzitutto un doveroso grazie e da lunedì finalmente come giustamente dicevi si parte con la vera stagione estiva. L'amministrazione comunale per una città come Pescara, che deve essere quella a quale noi immaginiamo una città che sia protagonista dell'intera fascia adriatica, l'amministrazione comunale ha sempre favorito le attività commerciali. Siamo in una fase delicata dove, voglio ricordarlo, la zona bianca impone comunque alcune regole fondamentali, una su tutte per esempio continua a essere obbligatorio l'usa delle mascherine all'aperto per fare un esempio, quindi dobbiamo essere cauti perché la zona bianca non deve essere nemmeno un liberi tutti, ci devono essere delle regole, però chiaramente va trovato un punto di equilibrio per una sana movida. Noi riteniamo infatti che in questo periodo dell'anno, per 4 mesi dell'anno, crediamo che Pescara debba vivere con delle regole perché dobbiamo anche rispettare coloro che nelle zone vivono, i residenti che devono comunque avere la possibilità anche in questi mesi di avere una vita tranquilla e serena con le proprie famiglie. L'Abruzzo è al secondo posto tra le regioni italiane per il numero di posti letto aggiuntivi di terapia intensiva stabilmente attivati per far fronte all'emergenza Covid, oltre a quelli provvisori allestiti per le esigenze di ricovero in particolari periodi. Con una percentuale del 75,8%, pari a 50 posti letto sui 66 programmati, l'Abruzzo segue l'Emilia Romagna al 79,2% e stacca di oltre 30 punti le Marche. Al terzo posto con il 43,8%, la media nazionale del 25,7%. Lo sottolinea l'assessore alla salute Nicoletta Veri commentando i dati del report del Ministero della Salute. Primo posto in Italia invece per l'attivazione dei posti letto in terapia semi-intensiva. L'Abruzzo ha attivato il 79,3% del totale programmato, pari a 73 posti sui 92 previsti. Una percentuale che supera di 30 punti il Veneto, secondo nella graduatoria di oltre 50 punti la media nazionale che è del 25,5%. E la conferma, spiega l'assessore Veri, che il nostro sistema sanitario regionale, fatto di tanti professionisti validi e preparati, è riuscito a reggere l'impatto della pandemia e sta dimostrando tutta la sua capacità. E poi ancora i comuni sotto ai mille abitanti in provincia di Teramo diventano covid free. La ASLA varato un programma per vaccinare la popolazione dei piccoli centri. Si inizia domani con Castelcastagna. I comuni interessati dal programma che si esplicherà principalmente nella prossima settimana sono Pietracamela, Fano Adriano, Castelcastagna, per l'appunto Rocca Santa Maria, Cortino, Arsita, Valle Castellana, Montefino, Castelli e Crognaleto. Parte della popolazione di questi centri è già immunizzata e mi riferisco agli ultraottantenni e ai fragili, ha commentato il direttore generale della ASLA Maurizio Di Giosia. Ma ora il nostro obiettivo è vaccinare il resto della popolazione. impiegheremo le nostre equip che hanno già dimostrato di avere grande professionalità anche nelle vaccinazioni sul territorio. E cambiamo decisamente pagina. Bollette pazze per utenze varie stanno arrivando a diversi cittadini del Pescarese. Codici presenta un dossier e invita chi è alle prese con simili problematiche a rivolgersi all'associazione. Vediamo il servizio. Si parla di bollette pazze in questa conferenza stampo. Voi volete parlare di un problema che è stato ravvisato da molti cittadini e parlarne come associazione Codici. Come voi sapete l'associazione Codici si occupa della tutela e della difesa dei diritti del cittadino, dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione. Però in questo particolare momento di pandemia abbiamo ritenuto opportuno volgere le nostre azioni fondamentali su due settori. Il settore dell'antiusura e del sovrindebitamento e il settore delle truffe o le tentate truffe a discapito degli utenti cittadini che molte volte si vedono proprio truffare da gestori falsi o findi che gestiscono i servizi pubblici essenziali come l'acqua, la luce, il gas e la telefonia. Con questo sportello avete lavorato tanto e state lavorando tanto in questi ultimi mesi. Quali sono le problematiche che vi hanno sottoposto maggiormente i cittadini? L'associazione di consumatori Codici presenta oggi un dossier sulle bollette pazze e sui disservizi che gli utenti della provincia di Pescara hanno avuto negli ultimi sei mesi, quindi nel periodo che va da dicembre a maggio in merito alle utenze, quindi luce, gas, acqua e telefonia. Abbiamo gestito circa 200 pratiche di conciliazione e abbiamo ottenuto anche risultati importanti perché siamo riusciti a far annullare circa 100 mila Euro di fatture sbagliate e a far ottenere indegnizi, quindi ristori economici per circa 50 mila Euro. Le principali problematiche che abbiamo riscontrato sono state l'attivazione di servizi e contratti non richiesti, l'addebito di costi non dovuti, la perdita della numerazione, l'interruzione dei servizi e fatture di conguaglio con periodi ormai prescritti. Ma l'Associazione Codici non si occupa solo di utenze, quindi di luce, gas, acqua e telefonia, ma si occupa anche di una tutela del cittadino a 360 gradi perché noi ci occupiamo di sanità sociale, banche, assicurazioni, frodi alimentari, garanzie di prodotti, tuteliamo il cittadino a 360 gradi. A breve partiranno a pescare i lavori previsti per la demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio che ospita il liceo Marconi. Gli studenti effettueranno gli esami di maturità presso la sede del liceo Maior. Vediamo. 21. Il primo lotto la cui gara scadrà il prossimo 17 dicembre sarà utile a rendere già autosufficiente la scuola per tornare alla piena funzionalità. Il secondo lotto riguarda invece la terza torre con la realizzazione di altre 27 aule per 59 classi complessive. La provincia di Pescara è al lavoro per garantire la piena regolarità degli esami degli studenti in altre sedi scolastiche cittadine. Bene, stiamo lavorando già da parecchi mesi insieme al Preside che lo ringrazio pubblicamente perché si è veramente messo a disposizione cercando con noi soluzioni migliori per i ragazzi per affrontare questo esame di Stato nel miglior modo possibile. Quindi ringrazio il Preside veramente con il cuore. Stiamo lavorando da tempo, come dicevo prima, per cercare di trovare la soluzione ma soprattutto per mettere i ragazzi in condizioni di affrontare questo esame di Stato. E la soluzione per l'esame di Stato già l'abbiamo trovato perché abbiamo trovato una struttura dove può ospitare le 12 quinte del Marconi con la segreteria, gli uffici di segreteria dove abbiamo la garanzia totale per la connettività perché la cosa importante era una struttura che garantisse questo per il bene dei ragazzi. Abbiamo fatto diverse valutazioni, diverse ipotesi e poi la scelta è ricaduta sul Major perché lì ci dà quella garanzia necessaria noi al Preside e a tutti. Dopo gli esami di Stato, Presidente, ci sarà da valutare anche il futuro di questa scuola? Sì, il futuro della scuola sicuramente stiamo già lavorando da tempo e quando si prenderà una decisione condivisa con il Preside, con l'istituzione scolastica comunicheremo ufficialmente cosa si farà a settembre perché adesso è in atto alcune situazioni stiamo valutando a 360 gradi ma stiamo lavorando per far rimanere la scuola ovviamente su Pescara che questa deve essere la priorità, la garanzia e di non dividere in tanti plessi quindi quando sarà ufficiale comunicheremo insieme la scuola al Consiglio d'Istituto la decisione presa. Il centro-sinistra polemizza con l'amministrazione comunale di Pescara per l'aumento delle tariffe dei parcheggi sulla riviera vediamo Parcheggi a pagamento sulla riviera aumento delle tariffe decisioni dell'amministrazione comunale di Pescara che fanno discutere e fanno discutere anche il centro-sinistra a Palazzo di Città Sì, perché la Giunta ha annunciato che per il prossimo anno ha in mente di far pagare il parcheggio su tutto il lungomare però ha fatto questo annuncio probabilmente per camuffare per nascondere in realtà un incremento del costo da quest'anno dei parcheggi su tutto il lungomare comunque in tutti i parcheggi per la sossessiva con percentuali di aumento tra il 20 e il 50% che sono degli incrementi notevoli e la Giunta non ha spiegato il motivo di questi incrementi perché nell'anno del Covid pensare che le persone possono spendere di più proprio quest'anno in percentuali così alte beh, vuol dire forse non avere ben chiaro qual è la situazione della città fra l'altro gli aumenti, noi diciamo potrebbero anche essere giustificati se ci fosse un progetto alternativo di consigliare, invogliare le persone ad andare al mare con altri mezzi che è un dovere di tutte le amministrazioni non è così perché la Giunta ha annunciato che toglierà le rastrelliere da lungomare e non si sa bene dove erano messe e addirittura scopriamo che addirittura i monopattini il costo dei monopattini già da giugno è cresciuto a 40 euro come abbonamento mensile se con le biciclette non ci possono andare con i monopattini non ci possono andare perché costano tanto con le macchine costano tanto quindi ci chiediamo quale idea ha la Giunta per consigliare i pescaresi come andare al mare dal prossimo anno accademico gli studenti avranno una nuova opportunità all'Università di Teramo è stato creato un percorso di studi unico in Italia che consentirà di ottenere in tre anni sia il diploma di conservatorio che la laurea triennale in Dams il servizio di Tania Bonnici Castelli la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo e il Conservatorio Statale Gaetano Braga hanno unito le forze e hanno siglato una convenzione per lo svolgimento di attività accademiche coordinate di formazione ricerca scientifica e produzione artistica nel prossimo anno accademico 2021-2022 gli studenti avranno l'opportunità della doppia iscrizione con un duplice percorso triennale che garantirà il doppio titolo finale il diploma di conservatorio e la laurea in Dams un progetto pilota in Italia Siamo felici, orgogliosi perché questo rappresenta il punto di partenza speriamo di una proficua collaborazione e integrazione tra le due istituzioni importanti che operano su territorio quindi una grande occasione Quanti iscritti avete all'istituto? Quasi 400 in questo momento noi pensavamo allo svilimento del numero degli iscritti vista la situazione però non è successo questo abbiamo avuto parecchie iscrizioni e speriamo che anche quest'anno possa andare così Oggi è davvero una grande festa perché avviamo un progetto unico in Italia è il primo esperimento di doppio titolo coordinato tra il Dams di Teramo e il diploma accademico di primo livello in discram della Braga e in tre anni lo studente vuole specializzarsi in ambito musicale potrà prendere quindi un'area di tipo accademico teorico con una componente performativa che solo un conservatorio potrebbe dare e finalmente la città di Teramo sta cominciando a capire che può essere veramente un grande laboratorio di punta in Italia perché ci sono tante energie ci sono tante professionalità un ambiente abbastanza piccolo che consente di mettersi attorno a un tavolo facilmente lo abbiamo fatto e oggi siamo qui a cominciare questo bellissimo percorso con l'anno accademico 21-22 avremo gli iscritti contemporaneamente in università e all'istituto Braga che cominceranno con noi è un bellissimo progetto Grazie alla segnalazione di un cittadino è stato rinvenuto un fregio di epoca romana a Corcumelo di Capistrello in provincia dell'Aquila il reperto è già oggetto di studio da parte degli esperti vediamo Raffiora un tesoro archeologico dal territorio di Corcumelo frazione del comune di Capistrello nei giorni scorsi infatti è stato recuperato un fregio di epoca romana di 2,20 m tutte le attività sono seguite dalla soprintendenza archeologica a belle arti e paesaggio che su segnalazione di un cittadino e grazie alla disponibilità dei proprietari del terreno del ritrovamento ora potrà analizzare e studiare il reperto abbiamo un terreno vicino a quello che era un edificio ecclesiale ormai abbandonato da secoli e il disgregamento delle rocce della muratura di questa fu chiesa di Sant'Anatolia ha portato a scoprire una piccola parte del fregio che poi è stata si è verificato essere un grande monolite e un paio di giorni dopo da un post facebook un amico della soprintendenza mi ha detto togli il post perché altrimenti potrebbero esserci dei curiosi e veniamo a fare un sopralluogo questo è successo circa un anno e due mesi fa e poi causa zona rossa altra zona rossa inverno e quant'altro si è arrivati a questa primavera per il recupero del manufatto ma un po' di soddisfazione senza dubbio è una pietra oggettivamente di duemila o più anni fa non so questo lo diranno gli studi che verranno fatti il bello è che man mano che andavamo la soprintendente cercava scavava e pulivamo questa pietra ci si accorgeva che andava sempre più in profondità ci abbiamo messo tre pomeriggi per scavarlo tutto ma c'è stata anche soddisfazione questo senza dubbio il freggio è stato collocato temporaneamente nella chiesa di Sant'Antonio di Corcumello dove sarà sottoposto al restauro si tratta di un reperto totalmente inedito un blocco in pietra calcarea che ora sarà oggetto di studio da parte degli archeologi ora noi lo stiamo studiando perché in questi casi le affrettate ipotesi possono soltanto disorientare tant'è che in due giorni sono comparse ricostruzioni che oscillano di circa un secolo e mezzo nell'attribuzione cronologica e noi ci siamo riservati invece un po' di tempo proprio per esaminare i singoli elementi che sono molto ben conservati che hanno probabilmente dei significati anche simbolici rispetto a quello che si può vedere all'apparenza immediatamente e che vanno poi confrontati con altri pezzi analoghi che sono presenti nel territorio marsicano L'amministrazione comunale di Pescara dedica una strada all'artista Franco Summa si tratta dell'ultimo tratto di via Cadorna vediamo Franco Summa ha una strada a lui dedicata nella città di Pescara questa mattina la cerimonia di intitolazione Sindaco lei ha parlato di una scelta di cuore da parte dell'amministrazione comunale Sì intanto abbiamo mantenuto una promessa che abbiamo fatto di fronte al ferretro di Franco Summa che gli avremmo dedicato una strada perché lui ha rappresentato una parte della storia di Pescara e quindi meritava che ciò avvenisse poi abbiamo fatto anche una scelta di cuore perché non abbiamo scelto una strada qualunque una di quelle vie da denominare ma abbiamo scelto l'ultimo tratto di via Cadorna quello che guarda il mare che guarda la nostra spiaggia perché Franco Summa è nato qui è nato in questa zona la sua arte si è sviluppata in questa zona attorno al cenacolo del liceo artistico dove lui ha insegnato suo padre passeggiava per queste strade andava a pescare il pesce che poi riportava a casa per cucinarlo c'è la storia in ognuno di noi e quando qualcuno ha una storia più storia degli altri bisogna metterla in evidenza quindi questa strada è un pezzo di storia della nostra città dedicato a Franco Summa perché Franco qui ci è vissuto e qui ha sviluppato la sua arte che poi si è estesa a livello internazionale l'ho voluto mettere in evidenza perché le città poi crescono attorno alle idee dei cittadini si sviluppano e quindi è bello quando si può mettere in evidenza tutto questo e credo che abbiamo anche inaugurato un modo di individuare le strade non a caso non per caso ma dandogli un cuore un'anima un significato che poi sono quelle cose che caratterizzano le persone lo sport un'altra settimana piena è trascorsa ma in casa Pescara non arrivano le decisioni sulle figure principali di DS e allenatore intanto la Lega Pro ha diramato il regolamento per il minutaggio degli under vediamo continua a slittare la decisione sul prossimo direttore sportivo e sul prossimo allenatore del Pescara un'altra settimana è trascorsa con il presidente Sebastiani che sta proseguendo le sue riflessioni e sta vagliando tante ipotesi anche sul fronte di un rafforzamento societario e il reperimento delle risorse da far convogliare nel budget della prossima stagione l'allungamento dei tempi fa proliferare la lista dei nomi sulle due figure nomi che in alcuni casi sono stati effettivamente sondati altri che non hanno avuto alcun contatto con la società bianca-azzurra allo stato attuale i nomi in pole position restano quelli di Pietro Fusco e Gaetano Auteri Fusco è in attesa di una ulteriore chiamata ma il trascorrere dei giorni fa sì che il direttore sportivo tuttora sotto contratto con la San Benedettese si stia giustamente guardando intorno in queste ore sono invece in forte ascesa le quotazioni di Paolo Bravo attuale direttore sportivo del Suttirol che è finito anche nel mirino della Cremonese Bresciano ed ex calciatore tra le altre del Rimini Bravo a Bolzano si è insediato nel 2018 ha lavorato anche con l'attuale tecnico del Venezia Paolo Zanetti ed ha fatto molto bene di recente c'è stata l'eliminazione dai playoff ad opera dell'Avellino Bravo è ancora sotto contratto col Suttirol ma piace tanto a Sebastiani e potrebbe essere la reale alternativa a Fusco anche Gaetano Auteri è sotto contratto con il Bari ma non sarà confermato sul tecnico siracusano aveva fatto un pensierino anche il Palermo ma nelle ultime ore sembra che il club rosanero opti per la continuità ovvero la conferma dell'ex vice di Boscaglia Giacomo Filippi che ha fatto molto bene nel finale di stagione è chiaro che fino a che non ci saranno firme sui contratti e annunci tutto può succedere e tra i tanti nomi resiste anche se in calo quello dell'attuale tecnico Gianluca Grassadonia del quale Sebastiani ha apprezzato la dedizione e la qualità del lavoro pur avendo davanti un'impresa quasi impossibile da realizzare Grassadonia che proprio oggi darà il rompete le righe d'accordo con la società chiudendo le sedute di allenamento intanto in vista della prossima stagione la Lega Pro ha diramato i regolamenti sul minutaggio per ogni partita le società partecipano al riparto del fondo voluto dalla legge Melandri per l'utilizzo di giovani calciatori quando schierano under per almeno 270 minuti e fino a un massimo di 450 i giovani in questione saranno tutti quei calciatori nati successivamente il primo gennaio del 2020 con possibilità di deroga per due calciatori del 99 per fare un esempio base un club ottiene minutaggio se schiera dal primo minuto e non sostituisce tre under centrando la soglia minima dei 270 minuti un utilizzo del minutaggio fatto con costanza può portare nelle casse di una società anche mezzo milione di euro venendo al Pescara la dirigenza dovrà stabilire se fare ricorso a questa voce rinunciarvi o farne un utilizzo facoltativo dopo l'addio al Teramo il neo allenatore del Pordenone Massimo Paci ha parlato della sua esperienza in bianco rosso del rinnovo di contratto mai formalizzato e dell'avventura in serie B che lo attende ascoltiamolo è una chiamata importante per me non c'è stato niente che non c'è stata nel senso quando hai una chiamata da una categoria superiore naturalmente hai la massima entusiasmo nell'accettare però sicuramente quando sono venuto qua ho capito che tipo di società ho alle spalle e che fortuna ho e che opportunità ho di lavorare con gente fortemente motivata a voler fare il massimo possibile e a voler tirare fuori il massimo da ogni componente del gruppo squadra Pordenone e quindi questo carisma che appena sono arrivato ho incontrato carisma da parte del Presidente e di tutti i componenti che sono qui a Pordenone mi ha colpito e mi hanno colpito sostanzialmente i valori che ci sono qui a Pordenone mi era stato proposto il rinnovo di contratto a gennaio però poi con il Presidente abbiamo parlato ci eravamo dati appuntamento adesso in questo periodo perché per capire meglio quello che la società voleva fare voleva programmare col Presidente c'è stata sempre grande sintonia una persona meravigliosa se io sono qua oggi è grazie soprattutto ai giocatori dell'anno scorso è grazie soprattutto a tutte quelle persone che hanno lavorato insieme a noi quella squadra invisibile di cui parlavo prima che hanno permesso a me di lavorare nella migliore maniera e quindi li ringrazio tantissimo li porterò sempre dentro perché comunque per me riuscire a tirare fuori il massimo dalle persone significa creare relazioni e quando crei relazioni perché poi il calcio non è solo schema non è solo c'è tanta passione dietro al calcio e io credo molto in questa cosa qua e quei legami che ho stretto l'anno scorso con giocatori con dirigenti presidente sono cose forti che non passano non durano nove mesi mi ritengo fortunato ad aver incontrato certe persone meravigliose e quindi è anche grazie a loro che sto qua io oggi adesso credo che questo per me come carriera è lo step più difficile perché più sali di livello e più manca l'ossigeno e quindi io dovrò dimostrare abbiamo le bombe quindi io dovrò dimostrare di essere pronto per questa categoria io ce l'ho a bordo a campo sempre tutti gli allenamenti il presidente so che ha le bombe le pronte quindi ma le mie ce le ho io qua dietro sempre e quindi la gavetta per me è stata estremamente positiva ho capito che che la parte più importante sono i giocatori la parte più importante sono gli altri non sei più te stesso ma sei l'allenatore e hai la responsabilità su di tutti ma soprattutto sul far crescere sul far migliorare tutti i componenti con cui lavorano con te quindi bisogna avere la massima umiltà nell'essere predisposto a donarti ad ascoltare soprattutto che è una parte fondamentale del mio lavoro dopo i recuperi domani trentunesima giornata di campionato in serie D che vedrà tornare in campo il Castelnuovo seppur con molte assenze dopo lo stop per casi covid ma sarà un turno contrassegnato anche dal ritorno del pubblico negli stadi in una percentuale del 25% Jacopo Forcella il turno numero 31 del Girone F di serie D è contrassegnato dalla buona notizia del ritorno in campo del Castelnuovo che seppur tra tanti problemi legati ancora ai contagi nella rosa della prima squadra riceverà tra le muramiche il letto lentino ma inevitabilmente lo farà con i cerotti tante le assenze ma la società neroverde per cercare di permettere al campionato di terminare nei termini previsti ha comunque dato la disponibilità alla LND qualora fosse necessario e accettato dalle altre squadre di disputare ulteriori turni infrasettimanali di venerdì un tour de force incredibile per cercare di venire a capo discorso che vale per tutto il girone di un campionato che ha già rinunciato per questioni di tempo alla disputa dei play out e vede sempre più a rischio la disputa dei play off intanto domani c'è la sfida con i cremisi che hanno nulla o quasi da chiedere ancora alla loro stagione una volta archiviata positivamente la salvezza in alto il campo basso ha un impegno morbido con l'atletico Porto Sant'Elpidio che lascerà la categoria per tornare in eccellenza e di conseguenza la strada per la Lega Pro per i rosso-blu molisani sembra ancora più spianata dovrà rispondere il notaresco che al Savini attende il vasso Girardi in una domenica nella quale anche il pubblico seppur in misura ridotta e contenuta può tornare finalmente a respirare le emozioni di una partita di calcio di quarta serie sarà così per tutti i match rispettando le disposizioni e con una percentuale massima di riempimento del 25% rispetto alla capienza totale a notaresco 200 tagliandi per i tifosi di casa e 50 per i tifosi ospiti il rosso-blu di Epifani sono a meno 8 dalla vetta e l'impresa è quasi al limite del possibile ma onorare al meglio un altro grande campionato per il notaresco è assolutamente d'obbligo per salvaguardare quella seconda piazza che occupa con pieno merito dopo peraltro la beffa dell'anno scorso trasferta a Castelfidardo per i Giulianova i marchigiani reduci da un percorso oltre quelle che erano le attese della vigilia ma l'11 di Bitetto dopo aver trovato una struttura riconoscibile sono in grado di andarsi a prendere la posta in paio piena anche considerando che a Monte Giorgio e Porto Sant'Elpiti giallorossi hanno già preso 6 dei punti che hanno in classifica altra trasferta ma nel Lazio per il Pineto che al quinto Ricci di Aprilia cercherà di difendere e migliorare la quinta piazza attuale e con una gara in meno rispetto alle dirette concorrenti anche per cancellare il recente scivolo all'interno nel match di recupero contro la Vastese Mister lo devo solo ringraziare perché mi ricordo che con la Lignores un amichevole contro il Terramo davanti a tutti quanti disse che d'ora in poi io sarei diventato il capitano quindi lo devo solo ringraziare lo devo puntare solo all'obiettivo sicuramente avevamo una mente più libera però sapevamo comunque domenica ci aspettava una partita importante contro l'Aprilia una buona squadra e quindi siamo pronti con questa prossima battaglia sicuramente il mio primo obiettivo è quello comunque di crescere perché comunque mi trovo in una società veramente importante con obiettivi stabiliti ben precisi comunque giocando anche con calciatori in cui hanno fatto campionati importanti come la Serie C eccetera sicuramente mi aspetto di migliorare sempre di più di squadra abbiamo degli obiettivi ben precisi che comunque quella di vincerle tutte fare più punti possibili e prima possibile ovviamente a proposito di vastese proprio a Pineto vista la squalifica dell'Aragona i biancorossi di D'Addario proveranno ad avere la meglio della Cinzia Alba Longa formazione terza della classe impegno complicato ma che come per il Giulianova gli aragonesi possono affrontare senza patemi infine gli arbitri aprigli a Pineto a Stefano Peletti di Crema Castelfidardo Giulianova Valerio Bocchini di Roma 1 Castelnuovo Tolentino a Maxim Frasiniac di Gallarate noteresco Vasto Girardi a Stefano Raineri di Como e vastese Cinzia Alba Longa a Nicolò Rodigari di Bergamo a breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma Youtube oppure sul sito www.tv6.it prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6 grazie per la visione